E' Melfi quest'anno la sede delle venturesime giornate Normanno Sveve che si tengono per la prima volta in Basilicata. Una a due giorni organizzata grazie ad un accordo tra il comune di Melfi e il centro studi Normanno Svevi, Dipartimento di Filosofia e Scienze Sociali dell'Università Aldo Moro di Bari. Nella cittadina federiciana decine di studiosi, ospiti e relatori provenienti da università e centri di ricerca di tutta Europa per discutere di civiltà a contatto nel mezzogiorno Normanno Svevo, economia, società e istituzioni assieme a studenti, borsisti e appassionati. Per sottolineare l'apertura del centro verso l'intero mezzogiorno d'Italia e direi verso l'intero bacino del Mediterraneo. L'iniziativa, dicevamo, vede la partecipazione di importanti studiosi tra cui il professor Cosimo Damiano Fonseca. Di fronte ad un'Italia meridionale frammentata, l'esperienza dei Normanni è stata unificatrice. Non a caso il regno più antico che la storia ricordi è proprio quello dei Normanni nell'Italia meridionale al tempo di Ruggero II, cioè nel 1133. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Livio Valvano per l'importante iniziativa che ha lo scopo di valorizzare il patrimonio della cittadina federiciana elevandone l'immagine in ambito internazionale ed inserendola in un circuito scientifico e culturale altamente qualificato.